Infissi in pvc senza pellicola. Ciao sono William Visacchi di Infissi Visacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Visacchi. Gli infissi in pvc senza pellicola sono quelli che consiglio assolutamente perché è l'infisso basico quindi colorato in pasta bianco e colorato beige tipo colore crema dove non essendoci nessuna pellicola sopra prima di tutto tutto quello che non c'è non si può rompere quindi la pellicola anche la migliore del mondo esternamente solo acqua e vento col tempo si staccherà e soprattutto se è un infisso bianco o color crema è un infisso che rimarrà delle temperature più basse rispetto all'infisso con pellicola magari scura o magari fatto legno è uno dei principali difetti del materiale pvc che ha un punto di fusione basso e che si dilata molto e più colore scuro più è peggio quindi un colore chiaro senza pellicola è sempre preferibile a un colore scuro inoltre il principale vantaggio del serramento in pvc è quello del basso costo e un pvc senza pellicola costerà sempre meno di un pvc con pellicola questo è molto importante come tantissime altre scelte quando si va a scegliere l'infisso sono importanti sul tipo di materiale il tipo di vetro la poso in opera la progettazione l'assistenza e per aiutare tutte quelle persone fare delle scelte fatte come si deve senza conflitto di interesse quindi solo per quelle persone che non posso servire direttamente come bisacchi c'è un servizio di consulenza e una consulenza personalizzata che facciamo direttamente a video con una videotelefonata e su uspn di più puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza ciao e al prossimo video iscriviti al canale